Ciao a tutti e benvenuti al mio canale, io sono Dini, Dini Pop, e oggi Bia avanza nella seconda temporada, capitolo 22. Marco si sta inocchio che va a arrivare un nego con Dante della X, e il marito di Paola chiede un'altra opportunità. Chiara le pregunte a Luana che significa che Bia sta facendo classi con suo figlio, Dini non le va a dire a Pietro che prova qualcosa per lui. Il papà di Bia si è inocato con ella. Il papà di Bia si è inocchio, e si è inocchio, lo scopriamo, alla prossima, ciao.